Ciao a tutti, sono Carlo Gravina e oggi mi trovo nel fantastico store di Raffaele Inviterra dove ho portato il mio nuovo Mark 6 a rimpellare da Raffaele e devo dire che ha fatto un ottimo lavoro Tommaso che sta qui dietro le tinte però non si fa vedere, voglio condimentarmi con loro perché il mio sassofono è ordinato veramente, vi farò ascoltare qualche volta di questo sassofono, grazie agli artisti del sassofono sono stati qui. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.